Allora prima di tutto benvenuti a tutti. L'applauso è per voi che siete venuti questa sera ad approfondire uno dei temi che probabilmente più riguardano la vita del nostro paese perché il tema della corruzione impoverisce il paese fondamentalmente. Un impoverimento reale, e adesso esamineremo brevemente qualche numero, è un impoverimento morale che vent'anni di mala politica hanno portato nella cultura, nello spirito del nostro paese. Io volevo solo spendere due parole, sono contentissima che il nostro gruppo abbia avuto questa occasione anche perché come vostri portavoce in Parlamento nei prossimi giorni ci troveremo ad affrontare appunto nelle commissioni permanenti che oggi finalmente sono partite il tema dell'anticorruzione. E quindi faremo tesoro di queste e delle altri incontri che ci saranno sul tema proprio per prendere le migliori idee, le migliori esperienze di operatori del settore e portarle, poi tradurle in una proposta di legge. Io volevo ritornare brevemente sul discorso della corruzione come impoverimento del paese. L'impoverimento è un impoverimento reale, stima della Corte dei Conti 60-70 miliardi di euro l'anno, quanto ci costa la corruzione. Tra l'altro c'è anche una stima a livello mondiale che parla di 700 miliardi di euro al mondo come costi della corruzione, quindi da soli formiamo praticamente il 10% dei costi che l'economia mondiale affronta per questo problema. E' un impoverimento morale dettato dalla mancanza di una cultura della legalità che è un terreno legislativo dove manca una vera normativa sia per la prevenzione sia per il quanto riguarda la repressione e poi i nostri ospiti ci spiegheranno che cosa significano questi due ambiti. La mancanza di un vero quadro normativo che vada a regolamentare questo settore fa sì che la percezione che se ne abbia alla fine di tutto quello che riguarda i rapporti tra pubblica amministrazione e realtà economiche, pubblica amministrazione e cittadini, siano dei rapporti assolutamente sbilanciati nel senso che il cittadino sente, capisce e percepisce che non c'è una sanzione, non c'è un disvalore morale, non c'è una vera capacità di giudizio su un'azione riprovevole come può essere un atto corruttivo nei confronti di una pubblica amministrazione, di un pubblico ufficiale. E questo ci porta a quell'impoverimento morale che fa sì che adesso il fenomeno della corruzione sia un fenomeno praticamente diffusissimo, quasi fosse un'epidemia, il costume mentale corruttivo. I nostri relatori che sono il consigliere Polidori e l'avvocato Fruscione sono sicuramente le persone che nel corso di questo incontro ci illustreranno tutti i passaggi di questa legge, la 190 del 2012 che è praticamente la trasformazione di una ratifica, di una convenzione ONU che parte da lontano, noi arriviamo sempre con quei 10-20 anni di ritardo, 20 rispetto alla Francia e 10 rispetto alla ratifica, all'emissione della convenzione ONU. Quindi lascerei a loro la parola, tra l'altro probabilmente a un certo punto mi vedrete scappare perché nel frattempo abbiamo aula, abbiamo la votazione del documento di economia e finanza, quindi approfitto già adesso per ringraziarvi della partecipazione e mi auguro che questi e gli altri convegni siano di nostra utilità perché dobbiamo avere gli strumenti per riuscire a contrastare questa cultura dell'illegalità che ci portiamo dietro da anni. Grazie. Buonasera a tutti, è veramente un piacere aver contribuito a organizzare questo incontro e a portare il consigliere Carlo Polidori e l'avvocato Alessandro Fruscione qui a spiegarci appunto i meccanismi di questa legge, della legge 190. Vi volevo raccontare un secondo come era nato questo incontro perché nonostante io sia un avvocato, l'incontro col consigliere anche amministrativista, l'incontro col consigliere Carlo Polidori è stato del tutto casuale appunto nel negozio del nostro candidato presidente del terzo municipio Massimo Muretti che ha un negozio di moto. In questo incontro Carlo mi ha detto appunto in primis di apprezzare diciamo l'aspetto innovativo che sta portando il movimento su tanti aspetti, sulla volontà di rendere più trasparente la pubblica amministrazione come pure di portare una lotta più seria alla corruzione come pure di ridurre i costi della politica anche se oggi va di moda l'aspetto della diaria e non si sottolineano le tante rinunce che abbiamo fatto. Purtuttavia poi Carlo mi ha fatto un piccolo appunto perché mi ha detto ho letto il vostro programma nazionale si parla di legge anticorruzione ma in realtà una legge anticorruzione anche se da poco nel nostro paese esiste appunto la legge 190 del 2012. Quindi oggi ci parlerà dei meccanismi di questa legge come pure degli interventi migliorativi che possono essere fatti, ci parlerà prevalentemente della figura principale di questa legge che è il responsabile della prevenzione della corruzione che viene nominato appunto in ogni amministrazione dall'organo di indirizzo politico quindi nel caso del comune dal sindaco e ci spiegherà anche come evitare i rischi di burocratizzazione di questo meccanismo come pure i rapporti appunto che possono esserci esserci tra responsabile della prevenzione appunto l'organo di indirizzo politico come pure tra il responsabile della prevenzione e gli altri dirigenti. A questo punto lascio la parola a loro e vi ringrazio. Buongiorno, anzi buon pomeriggio a questo punto. Inizio come sempre in ogni occasione di questo genere con i ringraziamenti. Un ringraziamento particolare a chi ha sottoscritto l'invito all'onorevole Lombardi a nome del gruppo parlamentare. Non ritengo offensivo ancora definire onorevole, anche perché onorevole vuol dire degno della nostra massima considerazione. Infatti abbiamo detto noi andremo a conguaglio, vedremo a fine del periodo. Sarete onorevoli a posteriori. Esatto, nel caso. Quindi, ma è una parola a me piace, io voglio continuare a pensare che la politica sia qualcosa di veramente degno della massima considerazione, quindi mi dispiace ma continuerò a chiamarla onorevole. Quindi, ripeto, ringraziamenti innanzitutto all'onorevole Lombardi per questo invito che è giunto graditissimo perché mi consente di divulgare questo tema che mi sta profondamente appassionando, che è il tema dell'azione di contrasto alla corruzione attraverso la prevenzione della corruzione. C'è un vecchio adagio popolare che credo ognuno di noi nella propria vita avrà almeno una volta sentito utilizzato. Meglio prevenire che curare o, in questo caso, reprimere. spiace dirlo ma sul piano della prevenzione della corruzione e l'arretratezza del nostro ordinamento giuridico purtroppo è esemplare. I ritardi sono stati già stigmatizzati dall'onorevole Lombardi. Quindi dobbiamo pensare a quello che potrà essere fatto da domani, da tutti gli attori di questa delicatissima partita. E vedrete che il primo passaggio della mia relazione riguarderà proprio valorizzare il tema della prevenzione, valorizzare il tema degli attori dell'azione di prevenzione. Perché le leggi, se restano sulla carta, sono parole al vento. Se non c'è la volontà delle persone che sono richiamate a ricoprire questi delicatissimi incarichi, in particolare quello di responsabile della prevenzione, ma poi anche l'organo di indirizzo politico, se non c'è la volontà di questi soggetti di rendere effettiva l'azione di prevenzione, anche questa legge, come tante altre leggi purtroppo, è destinata a rimanere lettera morta. Consentitemi poi un altro ringraziamento all'amico De Vito che ho incontrato casualmente quando ho portato la mia moto per il tagliando periodico. Quindi la casualità talvolta me lo hanno presentato in quella occasione e io gli ho manifestato che appunto ero rimasto molto colpito dall'aver letto che era stato fatto notare la mancanza di una legge anticorruzione. la cosa mi aveva un po' lasciato sbigottito perché questa legge è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale come tutte le altre leggi. Allora mi sono chiesto non è che forse si è parlato troppo poco di questa legge o forse l'attenzione si è concentrata troppo sull'altro aspetto, quello della repressione della corruzione. Non voglio assolutamente sminuire in questa sede il ruolo che ha la repressione del fenomeno perché da ex giudice penale, consentitemi, conosco la funzione special preventiva e general preventiva della sanzione penale. Quindi anche la sanzione penale oltre alla finalità repressiva assolve anche ad una fondamentale finalità individual preventiva nella misura in cui si rivolge al singolo agente o general preventiva laddove si rivolge alla collettività. Ma di questo si parla tanto, se ne parla in tante sedi. Dove invece io noto una carenza informativa è proprio il fronte della prevenzione. È un tema poco noto, poco studiato. Questa legge nasce da una iniziativa assolutamente meritevole del precedente ministro per la pubblica amministrazione che ha costituito una commissione di studio i cui lavori sono consultabili tra i lavori parlamentari nell'ambito dei lavori preliminari alla legge 190 del 2012. È stata compiuta un'indagine molto articolata che non ha fatto soltanto notare il ritardo del nostro paese su questo fronte ma ha anche fornito delle indicazioni. Alcune importanti indicazioni sono state recepite in questa legge. questa legge come lo stesso presidente della commissione ha fatto notare in un recente incontro svoltosi a Palazzo Chigi nel mese di marzo con tutti i soggetti impegnati nell'amministrazione a dare attuazione a questa legge fondamentalmente opera su tre piani. La repressione, la prevenzione e la diffusione della cultura, del rispetto delle regole e dell'etica pubblica. Ecco forse in ordine logico avremmo dovuto iniziare proprio da questo tema. Probabilmente la corruzione alligna anche su un terreno nel quale è proprio questa cultura che non è sufficientemente diffusa. Però abbiamo parlando un po' dell'organizzazione poi di questo incontro che nella nostra chiacchierata potrebbe essere il primo di una serie di incontri aperti ovviamente a chi avrà voglia di approfondire questi temi di straordinaria attualità. È quello proprio di andare a verificare cosa significhi concretamente, cioè quali siano gli strumenti fondamentali, cioè quelli di carattere organizzativo, che costituiscono il perno dell'azione di contrasto alla corruzione attraverso la prevenzione. E soprattutto concentrare l'attenzione sugli attori, cioè sui soggetti che saranno concretamente chiamati a dare attuazione a questa legge. Il rischio è non solo quello della non attuazione di questa legge, c'è un rischio anche peggiore. Vedo che hai studiato. Ho avuto anche la velleità di scrivere un ebook su questo tema. Il rischio è quello della burocratizzazione dell'azione di prevenzione della corruzione. Cioè che tutti i documenti, le procedure, le attività siano mere forme, prive di sostanza, che servano soltanto magari per qualcuno a pulirsi la coscienza, per qualcun altro peggio ancora forse a coprire la sostanza. Capite che qui il rischio è drammatico. Allora, purtroppo in Italia abbiamo precedenti di questo tipo di fenomeno, cioè di elusione normativa. Qui non mi preoccupa tanto la mancata attuazione, mi preoccupa l'elusione, che potrebbe essere il frutto anche di una non convinzione circa l'efficacia di questi strumenti. Allora andiamo nel cuore del problema. Cerchiamo di capire innanzitutto quali sono gli organi, quali sono gli strumenti. Gli strumenti concreti attengono alla creazione di un'amministrazione trasparente, di una casa di vetro, attraverso quello che è il fondamentale canale di conoscenza dell'amministrazione da parte del cittadino. Il sito web dell'amministrazione, nel quale ogni amministrazione dovrà costituire un'apposita sezione significativamente chiamata non trasparenza dell'amministrazione, ma amministrazione trasparente. Quindi il primo attore dell'azione di prevenzione della corruzione è il cittadino, il semplice cittadino, il quale deve disporre semplicemente dell'accesso alla rete. Attraverso gli straordinari strumenti garantiti dal decreto legislativo numero 33 del 2013, che dà attuazione alla delega legislativa contenuta nella legge anticorruzione, proprio per ciò che attiene al riordino delle disposizioni in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, oggi ogni cittadino sarà in grado di effettuare un controllo sull'amministrazione attraverso il sito web e se le notizie non sono pubblicate potrà esercitare l'accesso civico. Una vera e propria azione popolare, laddove per azione popolare si intende la possibilità di pretendere dall'amministrazione una determinata azione, comportamento senza dover dimostrare il proprio interesse, senza dover motivare il proprio interesse. L'interesse del cittadino a conoscere l'amministrazione sta nel principio io pago le tasse e quindi ho diritto a vedere come i miei soldi vengono spesi. Quindi dovranno essere i cittadini i primi attori e non è un caso se abbiamo già pensato a un secondo incontro dedicato proprio a questo testo, il decreto legislativo 33 del 2013 che diventerà uno strumento fondamentale di conoscenza dell'amministrazione, della sua organizzazione, delle sue dinamiche, del suo modo di organizzarsi, quindi delle sue procedure al quale potranno accedere non solo i soggetti istituzionali, non solo gli amministratori stessi ma anche i cittadini. Il primo pilastro dell'azione di prevenzione della corruzione è la trasparenza dell'amministrazione che si attua attraverso il web. Ma evidentemente se non c'è qualcuno che recepisca gli input che provengono da questa forma di controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione si esprime proprio in questi termini il decreto legislativo 33, anche qui rischiamo che il tutto diventi lettera morta. Allora il legislatore ha fatto ricorso a una figura che ormai è molto familiare a chi si occupa di pubblica amministrazione. La figura del responsabile. Chi di noi almeno una volta non ha sentito parlare del responsabile del procedimento, del responsabile dei trattamenti informativi automatizzati, del responsabile della prevenzione per gli infortuni sui luoghi di lavoro? Cosa significa quindi responsabile? che c'è un soggetto che risponde. C'è un soggetto che deve avere cura di quel problema. È stato individuato quindi un soggetto, una persona fisica, il responsabile della prevenzione della corruzione. In ogni amministrazione centrale, periferica, in ogni pubblica amministrazione dovrà esserci, anzi verrebbe da dire dovrebbe già esserci perché è scaduto il termine per la nomina. Dovendo il piano essere predisposto, il piano triennale per la prevenzione della corruzione entro il 31 marzo, e dovendo essere irresponsabile il soggetto deputato a predisporre il piano, ergo già tutte le amministrazioni dovrebbero aver già nominato il loro responsabile. E il sito web della Civit dovrebbe già recare tutti i nominativi dei responsabili. Si è detto ma il termine è ordinatorio. Ma cosa significa termine ordinatorio? Non significa termine meramente sollecitatorio, no. Termine ordinatorio vuol dire che il termine deve essere rispettato, fermo restando che se non viene rispettato non viene meno l'interesse a che venga attuata la norma. Spiace quindi che sul presupposto della ordinatorietà del termine del 31 marzo, che io senz'altro condivido, non ci si sia tempestivamente attivati. Spiace. Quindi il primo punto è questo. Il perno del sistema è il responsabile della prevenzione. Il responsabile della prevenzione è un soggetto particolare. La particolarità di questo soggetto si coglie da due norme. Una sta nella legge 190, è la norma sulla responsabilità di questo soggetto. Consentitemi di leggere questo comma. Non è bello leggere in questi contesti, ma lo voglio leggere. Perché è proprio leggendo questa norma che io ho fatto un salto sulla sedia. Non leggendo tutto il resto di questa legge. È questa la norma che mi ha fatto sobbalzare. In caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione, laddove qui per reato di corruzione deve intendersi un qualunque reato di un pubblico ufficiale contro la pubblica amministrazione. In questo senso si esprime la circolare della funzione pubblica numero 1 del 2013. Accertato con sentenza passata in giudicato, anche di patteggiamento evidentemente. Lo dico perché una sentenza di patteggiamento arriva prima. Il responsabile risponde. L'affermazione quindi è che c'è qualcuno che risponde. Cioè Tizio commette il reato e Caio risponde. Sì. Il responsabile risponde di un reato altrui. Attenzione. Non certo a livello penale. Perché c'è la garanzia fondamentale dell'articolo 27,1 della Costituzione. La responsabilità penale è personale. Ma tolta la responsabilità penale questo soggetto risponde su tutti i piani. A livello di responsabilità dirigenziale. A livello di responsabilità disciplinare. A livello di responsabilità amministrativo contabile per il danno erariale e il danno all'immagine e all'amministrazione. Salvo che provi tutte le seguenti circostanze. Aver predisposto il piano di prevenzione della corruzione, che è l'altro strumento fondamentale, questo documento strategico che costituisce la sintesi di tutte le misure di prevenzione. salvo che provi di aver predisposto il piano, di averlo fatto approvare, di aver vigilato sull'effettività del piano e soprattutto, lettera B del comma 12, di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. Cioè abbiamo un soggetto che risponde non a livello penale, a livello disciplinare, amministrativo contabile, a livello di responsabilità dirigenziale, perché è un dirigente di prima fascia, di norma, nelle amministrazioni centrali, quindi è dirigente di vertice, quindi risponde del reato commesso da altri, al quale egli evidentemente è estraneo dal punto di vista causale, perché non è ipotizzabile un concorso nel reato, no? Questo meccanismo dell'articolo 110 che espande l'area della rilevanza penale del fatto. Risponde perché? Perché non ha vigilato. Ma i civilisti ci hanno spiegato che la cosiddetta colpa in vigilando, cioè tu rispondi perché non hai vigilato, è una forma mascherata di responsabilità oggettiva. Se uniamo questo meccanismo con l'inversione dell'onere della prova, salvo che sia lui a provare di aver posto in essere, abbiamo un meccanismo che veramente fa sobbalzare. Cioè, ho provato ad immaginare lo scenario, viene commesso il reato. Il reato viene accertato con sentenza di patteggiamento. La sentenza di patteggiamento passa immediatamente ingiudicato. L'organo di indirizzo politico si trova sulla schivania un articolo di stampa che parla di questa sentenza. Cosa deve fare? Molto semplice. Prendere questa sentenza e trasmetterla al responsabile con due righe. Pregasi dimostrare che la commissione di questo reato non dipende da un suo inadempimento ad obblighi di controllo e vigilanza. Questo è il meccanismo dell'onere dell'inversione dell'onere della prova. Allora mi sono posto subito anche un altro quesito. Cosa dovrà fare il nostro responsabile? Ma attenzione, prima di chiederci cosa dovrà fare il nostro responsabile per andare esente da questa gravosa responsabilità? Immagino tutti abbiate già compreso che se l'organo di indirizzo politico non contesta alcunché al responsabile in caso di commissione di un reato questa legge è carta straccia. Quindi chi vigila sul custode? Se il custode è il responsabile chi vigila sul custode? L'organo di indirizzo politico. Evidenzierò che non compete all'organo di indirizzo politico solo nominare il responsabile. Non compete all'organo di indirizzo politico solo approvare questo documento strategico fondamentale, il piano triennale di prevenzione della corruzione. No. Il compito più importante è vigilare sul responsabile. Contestare al responsabile è questa responsabilità. La responsabilità per colpa invigilato. Spostiamoci sulla figura del responsabile. Come farà il nostro responsabile a dimostrare che la commissione del reato è dipesa esclusivamente da una volontà criminale condita dalla capacità di sfuggire ad ogni misura di prevenzione? Beh dovrà innanzitutto dimostrare che il piano è stato predisposto, tempestivamente approvato, che egli si è attivato per verificare l'effettività delle previsioni del piano. E quali sono le previsioni del piano? Previsioni che attengono alla formazione dei processi decisionali, al controllo sui processi decisionali, al controllo sulle situazioni di conflitto di interessi, al controllo sul rispetto dei tempi dei procedimenti, dove in materia di tempi dei procedimenti l'attenzione del responsabile non è quella del dirigente, non è preoccupante un sistematico ritardo nell'adozione dei provvedimenti, dal punto di vista della prevenzione della corruzione. Può diventare preoccupante che a fronte di un sistematico ritardo un bel giorno esca un provvedimento adottato nei termini. di 120 giorni rispetto al termine di legge stranamente un provvedimento viene adottato immediatamente. Ma il provvedimento è pienamente conforme alla legge perché la legge dice che il termine è stato rispettato. Ma perché in quel caso il termine è stato rispettato? Perché faccio proprio questo esempio? Perché la cultura della prevenzione della corruzione è una cultura diversa da quella dell'efficienza e dell'efficacia della pubblica amministrazione che sono pure obiettivi fondamentali, soprattutto in termini di spending review. ma non dobbiamo perdere la cultura della legalità dell'azione amministrativa. Questi due concetti devono andare di pari passo. Torniamo al nostro responsabile. Il nostro responsabile quindi dovrà dimostrare di aver predisposto il piano, di aver fatto degli studi, di averlo sottoposto all'approvazione, di aver vigilato sul piano. Cioè sulla attuazione del piano non solo da parte propria ma anche di terzi, ma soprattutto dovrà dimostrare di aver vigilato sui comportamenti altrui. Qualcuno potrebbe dire ma questa è un'approbazio diabolica. Perché il fatto stesso che il reato si è verificato è la prova provata che la vigilanza è stata insufficiente. E' giusto quindi aver gravato questo soggetto di un fardello così pesante? Se i mali sono estremi, anche i rimedi devono essere estremi. Chi ha studiato la responsabilità nel nostro ordinamento a livello di teoria generale del diritto insegna che la responsabilità oggettiva è lo strumento al quale legittimamente un ordinamento può ricorrere al di fuori del settore penale. Ricordo una fondamentale sentenza della Corte Costituzionale del 1988 sull'articolo 5 del Codice Penale, dove è stato riaffermato il principio di colpevolezza in materia penale. Ma noi abbiamo detto che qui la responsabilità del responsabile della prevenzione non è di natura penale. Non viene chiamato a rispondere in sede penale di un reato commesso da altri, no. Viene chiamato a spiegare perché l'amministrazione non è stata in grado di prevenire quel reato. Cosa produce questo meccanismo? Questo meccanismo produce un effetto che si chiama attività del responsabile finalizzata alla minimizzazione del rischio. Poiché egli risponderà in prima persona a livello disciplinare, amministrativo contabile, a livello di responsabilità dirigenziale. Guardate, la responsabilità dirigenziale può pervenire alla revoca dell'incarico e addirittura alla risoluzione del rapporto di lavoro. Rexius licenziamento. Questo soggetto quindi, per non rispondere personalmente per una condotta altrui, se c'è una vigilanza reale da parte dell'organo di indirizzo politico, massimizzerà la propria diligenza nell'azione di vigilanza e prevenzione, non si darà pace. Non si darà pace nel fare cosa? Nel vigilare sul rispetto delle procedure, nel vigilare sulla effettiva pubblicazione sul sito web di ciò che dovrebbe essere pubblicato sul sito web. Molto significativo che il decreto legislativo 39 affermi che di norma, 39 del 2013, altro decreto attuativo della legge anticorruzione, che il decreto legislativo 39 affermi che il responsabile della prevenzione della corruzione di norma coincide con il responsabile della trasparenza, cioè colui che cura il sito web, cioè che si prende cura che nel sito ci sia ciò che ci deve essere. Non è colui che lo alimenta, ma colui che vigila sul sito. È il destinatario delle richieste di accesso civico, per intenderci. È l'interfaccia del cittadino che lamenti una carenza informativa del sito. Quindi fate molta attenzione, questo è il perno. Questo soggetto, dovendo massimizzare la propria attività di vigilanza, farà l'impossibile. Per costituire che cosa? Una serie di elementi da poter spendere un domani per dimostrare che ha fatto tutto il possibile, che non era umanamente esigibile più di quanto egli ha fatto. Nei confronti di chi? Innanzitutto nei confronti dell'organo di indirizzo politico. Non si può pensare all'individuazione del responsabile della prevenzione come alla semplice nomina di un soggetto. Perché il legislatore ha utilizzato il termine, l'organo di indirizzo politico individua il responsabile? E perché ha detto che negli enti locali, come ricordava giustamente, è il segretario provinciale o comunale. Quindi ha individuato una funzione, non ha individuato una persona. Io sono fermamente convinto che già a livello di individuazione della figura del responsabile, l'organo di indirizzo politico debba operare uno screening sull'organizzazione per verificare se l'organizzazione è adeguata al raggiungimento di un obiettivo così importante. Qual è appunto la prevenzione della corruzione? Non è una semplice nomina. Da questo ne discendono tutte delle problematiche che ovviamente non sto qui neanche a dirvi perché ci porterebbero veramente fuori strana. È stato detto poc'anzi è il sindaco a fare la nomina. Io nello studiare questo tema e soprattutto nello scrivere nel volumetto che ho predisposto ho detto sì, probabilmente nella fase di prima attuazione di questa legge sarà il sindaco a nominare il responsabile. ma se non è una semplice nomina, se in realtà stiamo facendo come a mio avviso dobbiamo fare qualcosa di diverso, cioè verificare l'adeguatezza dell'organizzazione.